Estratto da Le gesta di Re Artù e dei suoi nobili cavalieri, di John Steinbeck, Fabri Editori, traduzione di Bruno Oddera. Le nozze di Re Artù. Siccome il consiglio di Merlino si era così spesso palesato prezioso, soleva Re Artù consultare il mago nelle questioni della guerra e del governo, nonché per quanto concerneva i suoi progetti personali. Così fu che egli convocò un giorno Merlino e disse, tu sai che alcuni dei miei baroni continuano ad essere ribelli. Forse sarebbe bene se prendessi moglie per garantire la successione al trono. Questo è un buon ragionamento, rispose Merlino. Ma non voglio scegliere una regina senza il tuo consiglio. Merlino disse, ti ringrazio mio signore, un uomo nella tua posizione non dovrebbe essere senza moglie. C'è qualche dama che ti piace di più di tutte le altre? Sì, rispose Artù. Amo Ginevra, la figlia di re Lodgrance di Camillard. È la più bella e la più nobile donzella che io abbia mai veduto. E non mi dicesti tu che mio padre, re Uther, donò una volta una grande tavola rotonda a re Lodgrance? Questo è vero, disse Merlino, e senza dubbio Ginevra è bella come tu affermi. Ma se non l'ami profondamente potrai trovarne un'altra buona e bella abbastanza per piacerti. D'altro canto, se il tuo cuore vuole Ginevra, non cercherai nessun'altra. Questa è la verità, disse il re. Se ti dicessi che Ginevra è una scelta sbagliata, potrebbe questo indurti a cambiare idea? No. Bene, allora, se ti dicessi che Ginevra ti sarà infedele con il tuo più caro e più fidato amico, non ti crederei? No, naturalmente, mormorò Merlino malinconico. Ogni uomo su questa terra è assolutamente persuaso che soltanto per lui le leggi della probabilità vengano annullate dall'amore. Io stesso, pur sapendo, al di là di ogni ombra di dubbio, che la mia morte sarà causata da una sciocca fanciulla, non esiterò quando quella fanciulla passerà. Di conseguenza tu sposerai Ginevra. Non vuoi un consiglio, soltanto il mio assenso. Merlino sospirò e soggiunse. Benissimo, allora, dammi un degno seguito e io mi recherò a presentare la richiesta ufficiale a re Lodegrance e a Ginevra. E Merlino, con il dovuto seguito, si recò a Camillard e chiese a quel re che consentisse a sua figlia di dimenire la regina di Artù. Lodegrance disse che un così nobile, prode e potente sovrano, come Artù, voglia mia figlia inisposa, è la notizia migliore mai pervenutami. Se la volesse con una dote di terre, gliele offrirei, ma egli possiede terre a sufficienza. Gli manderò un dono che gli piacerà più di ogni altra cosa, la tavola rotonda datami da Uther Pendragon. Alla tavola possono trovare posto centocinquanta commensali e io gli manderò cento cavalieri per servirlo. Non posso mandargliene centocinquanta perché molti dei miei cavalieri sono stati uccisi nelle guerre. Lodegrance consegnò poi Ginevra a Merlino e inoltre la tavola rotonda e cento cavalieri riccamente armati e vestiti e l'intero regale corteo si mise in viaggio per Londra. Re Artù fu sopraffatto dalla gioia e disse «Questa bella dama è più gradita per me, poiché l'ho amata dalla prima volta che la vidi, e i cento cavalieri e la tavola rotonda mi piacciono più di qualsiasi altra ricchezza». Così Artù sposò Ginevra e la incoronò sua regina con tutta la possibile dignità e vi furono festeggiamenti ed esultanza alla sua corte. Dopo la cerimonia Artù rimase in piedi accanto alla grande tavola rotonda e disse a Merlino «Cerca dappertutto nel mio regno e trova cinquanta onorati, prodi e perfetti cavalieri, così da completare il numero della compagnia della tavola rotonda». E Merlino rastrellò il paese, ma ne trovò soltanto ventotto e li condusse a corte. L'arcivescovo di Canterbury benedisse poi i posti intorno alla tavola. Merlino disse allora ai cavalieri «Adesso recatevi da re Artù, giurategli fedeltà e rendetegli omaggio». Quando tornarono a tavola, ognuno di loro trovò il proprio nome inciso in lettere d'oro al posto che gli spettava, ma due posti erano senza nome. Mentre sedevano alla tavola rotonda, il giovane Galvano giunse a corte e chiese un dono in onore del matrimonio di Ginevra e di Artù. «Chiedi», disse il re. «Chiedo che tu mi faccia cavaliere», disse Galvano. «Con piacere», disse Artù. «Tu sei il figlio di mia sorella e io ti debbo ogni onore». Poi venne a corte un povero uomo e con lui un bel giovane a cavallo di una giumenta, pelle e ossa. Il povero uomo domandò «Dove posso trovare re Artù?» «Eccolo là», rispose un cavaliere. «Vuoi qualcosa da lui?» «È sicuro, per questo sono qui». E l'uomo si avvicinò al re e lo salutò dicendo «O più buono tra i re, io prego Gesù affinché ti benedica. Mi è stato detto che in questi giorni delle tue nozze tu accogli richieste ragionevoli». «È così, infatti», rispose Artù. «L'ho promesso e manterrò la promessa, purché la richiesta non sia lesiva per la mia dignità e il mio regno. Che cosa desideri?» «Ti ringrazio, mio signore», rispose il povero uomo. «Ti chiedo di fare di mio figlio qui un cavaliere». «Chiedi una grande cosa», disse Artù. «Qual è il tuo nome?» «Signore, mi chiamo Aries e sono un baccaro». «Sei stato tu ad avere questa idea?» «No, signore», rispose Aries. «Devo dirti come stanno le cose». «Ho tredici figli e tutti gli altri lavorano come io dico loro che un buon figlio dovrebbe fare. Ma questo ragazzo non vuole saperne del lavoro manuale. Non fa che scoccare frecce e lanciare lance e correre ai tornei per contemplare i cavalieri e giostrare. E giorno e notte non mi dà pace, perché pensa soltanto al rango di cavaliere». Il re si rivolse al giovane. «Come ti chiami?» domandò. «Signore, il mio nome è Torre». Artù osservò il ragazzo e vide che era bello e alto e ben fatto e disse ad Aries «Conduci qui gli altri i tuoi figli».». Quando i fratelli vennero a trovarsi di fronte ad Artù, questi constatò che erano umili lavoratori come Aries e non come Torre, nel volto e nel portamento. Il re domandò allora al baccaro «Dov'è la spada con la quale farlo cavaliere?». Torre spinse indietro il mantello e mostrò la sua spada. Artù disse «Il rango di cavaliere non può essere concesso se non è richiesto. Sguaina la spada e chiedi». Torre smontò allora dalla sua scarna giumenta, sguainò la spada e dopo essersi inginocchiato dinanzi al re chiese di essere fatto cavaliere e di entrare a far parte della compagnia della tavola rotonda. «Io faccio di te un cavaliere», disse Re Artù, e prese la spada e colpì simbolicamente Torre sul collo con la lama di piatto, dicendo «Sì, un buon cavaliere, prego Dio che tu possa esserlo e, se ti dimostrerai prode e onorato, apparterrai alla compagnia della tavola rotonda». Il re si rivolse poi a Merlino. «Tu conosci il futuro. Sappici dire se Ser Torre sarà un valoroso». «Signore», rispose Merlino, «dovrebbe esserlo. È di sangue reale». «Come mai?», domandò il re. «Te lo dirò», rispose il mago. «Aries il vaccaro non è suo padre, né è imparentato con lui in alcun modo. Suo padre è re Bellinore». «Non è vero!», esclamò Aries irosamente, e Merlino ordinò. «Conduci qui tua moglie». E quando ella entrò nella corte risultò essere una massaia bella e ben fatta, e si espresse con dignità. Disse al re e a Merlino, che da fanciulla, una sera, era andata a mungere le mucche, e soggiunse. Un austero cavaliere mi vide, e quasi a forza mi tolse la verginità, ed io concepì mio figlio Torre. Avevo con me un segugio, e quel cavaliere lo portò via, dicendo che lo avrebbe tenuto per amor mio. Il vaccaro disse «vorrei che questo non fosse vero, ma ora lo credo, perché Torre non è mai stato come me o come gli altri miei figlioli». Sar Torre esclamò irosamente, rivolto a Merlino. «Tu disonori mia madre, signore». «No», disse Merlino, «è più un onore che un insulto, essendo il tuo vero padre un prode cavaliere e un re. Ed egli nobilita sia te sia tua madre. Tu fosti concepito prima che ella avesse sposato Aries». «Questa è la verità», disse la donna. E il caro disse «non mi affliggerò per tale motivo, allora, se accadde prima che io la conoscessi». La mattina dopo, Ser Pellinore venne a corte, e Artù gli narrò l'episodio e gli disse di aver fatto Ser Torre cavaliere. E quando Pellinore vide suo figlio, molto si compiacque della sua prestanza, ed esultò. Artù fece poi cavaliere e suo nipote Galvano, ma l'onore toccò anzitutto a Ser Torre, al banchetto, allorché venne creata la compagnia della tavola rotonda. Artù guardò la grande tavola e domandò a Merlino «come mai ci sono posti liberi senza nomi?» E Merlino rispose «due dei posti possono essere occupati soltanto dai più onorati cavalieri, ma l'ultimo è lo scranno periglioso. Un solo cavaliere potrà occuparlo e sarà il più perfetto mai vissuto. E se un qualsiasi altro cavaliere oserà occupare quel posto, verrà distrutto». Poi Merlino prese per mano Ser Pellinore, lo accompagnò ad uno dei seggi vacanti e disse «questo è il tuo posto, signore, nessuno lo merita di più». Ser Galvano si sentì allora colmare di invidia ed ira e disse sottovoce al fratello Gairis «quel cavaliere tanto onorato ha ucciso nostro padre, Relot. Ho affilato la spada per lui, lo ucciderò subito». «Sì paziente fratello», lo consigliò Gairis «non è questo il momento. Io sono ora soltanto il tuo scudiero, ma quando diventerò cavaliere lo ucciderò e ci vendicheremo lontano dalla corte. Se commettessimo atti di violenza a questo banchetto saremo noi a pagare». «Forse hai ragione», disse Galvano. «Aspetteremo l'occasione propizia». Finalmente i preparativi per le nozze di re Artù e della regina Ginevra vennero portati a termine e i migliori e i più prodi e i più splendidi del regno si riversarono nella città regale di Camelot. I cavalieri, i baroni e le dame si riunirono nella chiesa di Santo Stefano e là il matrimonio fu celebrato con una cerimonia fastosa e con solennità religiosa. In seguito il banchetto ebbe inizio e a corte, ospiti e uomini del seguito, sedettero ognuno al posto che si addiceva alla sua posizione nel mondo. Poi Merlino disse «Che tutti tacciano e rimangano ai loro posti, poiché comincia adesso un'epoca di meraviglie e assisterete a strani accadimenti». Tutti rimasero allora immobili ai loro posti, come se fossero paralizzati, e nella grande sala regnarono il silenzio e l'attesa. I preparativi avevano avuto termine. Artù era re, la tavola rotonda esisteva e l'accolta dell'ardire, della cortesia e dell'onore sedeva, ciascuno occupando il proprio posto. Il re più in alto, rigido e immobile, e Merlino accanto a lui in ascolto. Si sarebbe detto che fossero addormentati, come lo erano stati e lo sarebbero stati tante altre volte, addormentati ma in ascolto delle necessità, della paura, dell'angoscia o della pura e dorata avventura che poteva destarli. Re Artù e i suoi cavalieri, silenziosi e in attesa, nella grande sala di Camelot.